Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori. Oggi è lunedì 9 marzo, sono le 7.30 sul canale 17, tutte le mattine da lunedì al sabato va in onda la rassegna stampa. Occhio ai giornali, un'occhiata alle notizie più importanti pubblicate sul resto del Carlino, sul Corriere Adriatico e sul Messaggero. Siamo in diretta, dicevo, e subito vediamo il Santo del Giorno. Oggi è Santa Francesca Romana, il sole è sorto alle 6.33, tramonterà alle 18.05. Un cielo ancora oggi, vedete, molto nuvoloso, questa è l'immagine, l'istantanea delle 7.30 della nostra webcam che fa parte del nostro piccolo osservatorio meteorologico di Fano TV, al quale si può accedere attraverso il nostro sito internet occhiolanotizia.it dove potete trovare tutti i dati aggiornati, vedete, in tempo reale, per esempio questi li abbiamo appena scaricati, le 7.29, temperatura di questa mattina alle 7.30, 6.30, con un'umidità dell'82%. Andiamo a vedere invece adesso le previsioni della protezione civile delle Marche, per oggi lunedì 9 marzo, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento, per domani martedì 10 marzo, cielo sereno poco nuvoloso, la settimana invece inizia con tempo stabile, ma c'è anche la possibilità di un possibile passeggero peggioramento a metà settimana. Va detto che queste sono previsioni fatte, credo, sabato, quindi qualcosa probabilmente è già cambiato nel corso di queste ultime ore. Andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. La pagina di Pesaro e Provincia si discute, fa discutere sui social network, la presenza nell'ufficio del sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Belloni, di un'immagine dello stemma comunale che ha al suo interno il capo del littorio, vale a dire la banda superiore rosso-porpora, contenente il fascio littorio d'oro circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali, che venne istituita durante il regime fascista come obbligatoria per tutti gli emblemi araldici di comuni, province e denti morali. Lo vedete, il resto del Carlino lo pubblica e lo ha già segnato con una freccia rossa. Io ci faccio un cerchio, così lo vedete, ecco, vedete bene, questo qui. È un quadro che fa discutere dell'Onti, il sindaco ha detto scherzosamente, sorridendo ovviamente, perché c'è solo da ridere, c'era già prima con il mio collega di centro-sinistra e poi si domanda, ironico, non è che l'avrà mica messo lui. Poi sotto invece si racconta di una serata a teatro al Rossini di Pesaro con Anna Marchesini. Anna Marchesini, che sapete, non sta bene, sta portando avanti comunque con grande dignità la sua professione, calcando comunque ancora i palcoscenici e il pubblico di Pesaro ha omaggiato l'attrice con una lunga standing ovation, cioè si sono alzati tutti in piedi, sia all'inizio che alla fine dello spettacolo. Una grande prova di affetto, appunto, come dicevo, per una donna che non si era assegnata alla malattia, ma continua con grande professionalità a calcare i palcoscenici. Poi però purtroppo, un attimo prima che si chiudesse il sipario, è stata vista cadere. Ci sono stati momenti di paura, di apprensione per questa donna, che poi però si è rialzata ed è apparsa subito dopo, rassicurando tutti quanti. Marotta Unita, un anno dopo, domina il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, tante le questioni ancora irrisolte, Fano attende il pronunciamento della Corte Costituzionale. Più in alto, tagli nelle due aset. Andiamo, ecco, è sparita la pagina, andiamo a vedere se riusciamo a riprenderla. Ecco qua, la portiamo qua. Allora, dov'è? Dov'è finita? Eccola qua. Allora, dicevamo, tagli nelle due aset. Una volta con i giornali di carta era tutto molto più facile. Risparmi importanti, dicevo, nelle due aset, con la riduzione del numero dei consiglieri dei CDA e con la chiusura di Aura. Questi, secondo i vertici di aset holding, i risultati dell'insediamento della Giunta Seri. È stato ridotto il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione delle due aset da 5 a 3 consiglieri e quindi diminuito del 10% il compenso annuo lordo degli stessi, quindi da 60 mila a 42 mila euro. A Urbino, invece, anche oggi è chiuso l'asilo Nido Valerio per la messa in sicurezza. Sapete, insomma, dopo tutto quello che è successo, il maltempo, le raffiche di vento che hanno danneggiato una parete esterna della struttura, per oggi ancora rimane chiuso. A Pesaro, invece, le ruspe butteranno giù, abbatteranno una chiesa. Il Comune ha già autorizzato le ruspe appunto a procedere. Appartiene al Monastero delle Serve di Maria, addolorata lungo la strada che da Soria sale verso il San Bartolo. Sor Francesca ricorda che questa chiesa venne costruita negli anni 60, ma sono spuntate presto le crepe e segni di instabilità e quindi verrà abbattuta. Ancora dal resto del Carlino si parla dell'edizione di quest'anno del Paese dei Balocchi. Pinocchio fa il pit stop a Bellocchi di Fano, presentata all'edizione a cura di Sanzio Balducci e Bruno Darcevia. Ancora lo sport adesso per il Fano. Fano che non è riuscito a portare a casa i tre punti, soltanto uno con il fanalino di coda a Celano, uno a uno, questo è il risultato finale di questa venticinquesima giornata di campionato di Serie D. Misero pareggio a Celano, l'errore, scrive il giornale, è stato quello di tenere in partita gli abruzzesi. Approccio molle, troppe occasioni sciupate, al gran gol di Borrelli in avvio di ripresa, risponde Piccirilli e Marsicani. I Marsicani si esaltano, Borrelli partita di livello, attaccanti davvero sciuponi, queste sono le pagine del giornale, il mister Alessandrini dice eravamo meno concentrati delle altre volte e poi c'è mancata la cattiveria sotto porta. La squadra è un po' sotto stress, sta pagando la pressione, non siamo abituati a giocare per il vertice e soprattutto a vincere sempre, quindi c'è anche questa pressione qua. Non c'era la nostra troupe ieri di Fano TV, c'era un'altra troupe locale, quindi stiamo ricevendo le immagini, già abbiamo ricevuto il primo tempo, stiamo ricevendo il secondo tempo, verrà poi fatta la telecronica di Sergio Catalani sopra, quindi dovrebbe essere tutto a posto, stasera dopo il telegiornale dovremmo essere in grado di trasmettere appunto la partita del Fano in quel di Celano. Andiamo velocemente a vedere il messaggero, messaggero che racconta di una fila fatta per tutta la notte per avere un posto nei job della provincia, perché nei job della provincia oggi si scelgono 104 tirocinanti e Cecchia si è messo in coda da mezzogiorno. Per evitare le lunghe ore al freddo, in serata è stato aperto il centro per l'impiego di Via Luca della Robbia. E poi ancora liste civiche, si parla della politica, le liste civiche lanciano a Guzzi, ma aspettiamo ancora Spacca. A centropagina ancora vedete la notizia di Anna Marchesini che cade sul palco, brividi per lei che ieri al Teatro Rossini è caduta sul palco al termine del suo spettacolo, dopo che si è alzata dalla sedia per raccogliere gli applausi. Elezioni, la CGL mantiene la vetta prima nelle RSU del pubblico impiego, anche la Will cresce negli enti locali. Il meteorologo del messaggero invece ci informa che il freddo ci sarà fino a mercoledì, mentre ieri, 8 marzo, è stato una giornata piuttosto gradevole e prevalentemente soleggiata. Ancora dal quotidiano romano le pagine di Pesaro, fondazione unica per la cultura e il progetto rallenta. L'ente Olivieri a Pesaro chiede una perizia per verificare la compatibilità del suo statuto con l'accorpamento di istituti voluti dal sindaco. Vedete qui la piazza piena di mimose, poi ancora sotto, multiservizi, la Giunta aspetta il via per cedere le quote. Oggi il Consiglio è chiamato a votare sulla vendita del 2,5% dell'azienda, che fa gola a ERA. E poi effetto Masterchef impennata di cuochi alla Santa Marta di Pesaro. Va forte l'alberghiero e le iscrizioni, che si sono chiuse da poco, confermano anche l'ottimo stato di salute dei licei. Tutta la notte in fila, sperando in un posto, anche qui la notizia di queste persone che sono arrivate molto presto per prendere il posto, segnarsi, anche perché chi arriva prima viene preso, quindi è l'assegnazione in ordine, la presentazione della domanda. Chi prima arriva, prima potrebbe avere il posto, a patto che rispetti i requisiti del bando. Poi alberi e tetti a rischio, 200 interventi per i vigili del fuoco nella coda del maltempo. A Urbino oggi riaprono le scuole, tranne l'asilo Valerio, come dicevamo, poi inizia il monitoraggio degli smottamenti. Al porto di Fano l'emergenza del dragaggio. Si combatte trasformando i fanghi da scarti in risorse, amministratori e operatori, ieri al convegno organizzato da Marina dei Cesari. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie per averci seguito,